In aumento il numero di giovani che fanno uso di sostanze stupefacenti. Un grido d'allarme lanciato dall'AGRD, l'associazione Genitori Lotta alla Droga, con sede in piazza 11 Febbraio a Castello di Godego. La cosa è un po' seminascosta, però la diffusione sappiamo bene che ha macchia d'olio. Come associazione di genitori che state ponendo avanti questa battaglia contro la droga, quali sono le difficoltà maggiori che incontrate quotidianamente? La difficoltà maggiore è quella anche di farci conoscere nel territorio, perché magari sì, noi tendiamo attraverso dei volantini, delle manifestazioni che facciamo, però è sempre fatica arrivare alla persona. Il mettersi in gioco costa tanta fatica. I genitori fanno fatica ad ammettere che il proprio figlio usa droghe? Sì, fa molta fatica perché alla fine è ammettere che hai fallito come genitore. Voi, tutti come membri dell'associazione, avete attraversato il tunnel della droga. Che messaggio lanciate a tutte queste persone che si trovano bene o male coinvolte? Il messaggio che noi lanciamo è guarda che non sei solo. Vieni e sarai accolto e non ti sentirai giudicato.